Il signor Angelo Ardoli ci attende nella sua casa di Sesto Duniti. Appena gli chiediamo informazioni sulla cascina Breda Lunga comincia a raccontarci ricordi legati a quel posto, un luogo che ha visto passare tra le sue mura centinaia di persone, tutte dedicate al lavoro nei campi e all'allevamento. Il padre del signor Ardoli, venuto a sapere dell'esistenza della cascina, vi portò tutta la famiglia, intorno al 1937, per lavorare nei campi. Successivamente sostituì uno dei due fratelli proprietari del luogo nella direzione della stessa. Intanto il signor Angelo venne iscritto per volere della nonna nella scuola internazionale di liuteria, fatti inusuali per i ragazzi dell'epoca. Successivamente, terminata la scuola e arrivato l'avvento delle automobili, cominciò a fare l'autista per i signori della cascina. Mi ha detto che ha trovato anche l'amore a Breda Lunga. Sì, ho trovato l'amore tra ragazze e 33 famiglie, nella mia famiglia eravamo in otto, c'erano parecchie famiglie, in otto, in dieci. E lì ho trovato una brava ragazza, con due figli. Quindi là si trascorreva tutta la vita, c'è chi nasceva, ci si incontrava, ci si conosceva. Era vita, era vita. Tanto è vero che suonavo il violino, io perché ho fatto la liuteria, suonavo il violino e c'era l'orchestra tutte le sere. Intorno agli anni Sessanta la cascina Breda Lunga cominciò a spopolarsi della gente che la abitava. In quel periodo, infatti, erano in molti a scegliere la città come luogo per far fortuna, invece che rimanere nei campi a coltivare la terra. Avvenimento che il signor Ardo li ricorda con dispiacere. Piano piano sono andati tutti in paese. Tutti a Milano, tutti negli giorni di Milano. È stato proprio un trasloco del Sessanta che c'erava paura ad entrare. Da quel momento in poi la cascina è stata abbandonata a se stessa finché non sono subentrati negli ultimi tempi dei lontani eredi, i quali stanno cercando di riportare in auge il luogo dei mille ricordi.